musica 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 ok, il voice pronti a perdere contro i 2 wood vincenzo greco ok ehi raga, primo posto andiamo ad iniziare andiamo outside adesso mi faccio leggi poland vs italian outside ragazzi autotetto manca scontate si iniziamo così ci improvvisiamo sono dietro il container chi è andato a morire io l'ho detto che era un problema non c'è nessuno dietro il container forse c'è su giù bello che lasciano da dietro eh scendete giù veloci black hell uno sotto aiuto aiuto adonna sput prendi la tech 9 veloce non è questa la tech 80 pistole ok ve la veloci ultimi due più o meno dai non si sa andatemi in più o meno uno sotto luca allora uno è lì e uno è sotto di te subito a destra eh il vincenzo greco attenzione zitto zitto se ne come sprecare i colpi silenzio 38 secondi hai visto no 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 ma perché vi siete fermati c'era quello in mezzo che si girava da per tutto no no comment questo round va bene va bene dark va bene va bene un altro eco dark siniscar è scars vincenzo greco un assisto chi ha detto che era meglio sinia un random io parlava lui vincenzo greco ma io non so devo fare la comp con certe elementi spero eh parlò eh stanshottato eh parlò almeno ho andato come prima io vado in prefire e lo uccido sento a sinistra lui passa così muoio muoio tantissimo invece no venghi non entrare venghi non entrare uno è a destra si si che l'ho sentito perchè ho saltato lo so su lui siniclatch bella sini ti ho visto proprio carico mi hai piaciuto con l'hs che hai fatto in rampe perchè ti è venuto veramente bene devo dire ma me l'aspettavo per un hs così sputtagli al rato ma chi l'ha fatto? grazie mi piace dark l'ha sciuttato malissimo l'hai visto ok ragazzi andiamo con calma in logic cioè logic io push rampe e voi coprite dark si inventa le posizioni quando l'entrata è qua davanti è logic logic ah questa è qua sinistra ok guarda avanti non è scusa logic no lobby è avanti l'etrof non è mai stato bravo con noi è una merda proprio ok con calma non piccate qualcuno copro out io copro un rush da outside bravo un rush? io copro puro io già sono morto vabbè mi ha tirato la granata della vita questo un'altra smoke non so come sono morto ciao raga c'è un po' di enfasi please io so come sei morto sinistra hai la bomba grazie non c'è il buon luck vero? oddio la bomba sinistra vincenzo sto pazzo vabbè ho capitato di voi cheat dai si entrate in nave veloci allora capa ragazzi sopra 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 nell'angolo sopra dietro di voi ragazzi sopraventuro vabbè è sopra il tetto oh cazza fesco vado raga è uno eh è un altro sotto un high site dai dietro spunti dietro mi sa defios uno ha smoncato però dove è plantata? dietro dove sta? eh che cazzo faccio? eh ho sbagliato vendi e sine un buon vincenzo forse no no ho plantato sine senza parole grazie ce l'ho vincenzo scusate per paradiso che nessuno poteva andare in paradiso beh bella noi statti non potevamo plantare davanti perché erano tre cioè almeno sine però d'arte potevi dire sopra la casetta e ti ho detto non sopra dana del cicchino anzi sono entrato e mi sono fatto la doppia comunque non andiamo out vabbè proviamo out ce l'avete la smoke? dark se out c'è sputner avuppi tutti morti vabbè ma ne hai smoccato bene vi lanciate così in mezzo attenzione sono tutti sopra ancora luck smoke di merda luck però non andare a cazzi tuoi oh raga ma sono italiani no no sono a polaco lo sai che ci vuole non si scrive così però dietro polacco per lui sputner c'è luck forza troia tu li da solo su a non fare niente dietro dietro da outside dai sine catch vabbè se lo fa sine pensa puoi fare una kill manco quella fa dietro ma perché? oh 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 ma perché è saltato? vendi dammi la vp sine vendi siamo siamo t tranquillo ho capito ma se facciamo 15 a 0 t non è una sine cambia i cavi cambia i cavi ma non sono buoni diritti lasciamo rampe raga lasciamo rampe lascio io oh si mi raccomando quando ne vuoi killare uno basta che ce lo dice l'hai detta ne fa una partita signor che no lui aveva detto una round tempo fa magari ne fai 6 una round cioè 16 kill sono buone vabbè si dove si propende? e non va dove sei proprio riesce ad ammazzare i novacqua e ora sei ma poi non va meglio l'ha lasciato dai raga però due davanti ci muoio io dai nobbi che rush non potete fare e vabbè stilla finisce stillare oh oh un po' di tattica non vi buttate a musso destra scendete voi porco cane copro io dietro scendete scendete dai finestra finestra sputa aspetta sputa eh facciamoci questo eh te pareva meno 65 luca uno rampa uno una volta era a sinistra o non è finestra quella vp è uno eh ah allora è nella finestra luca un minuto ancora eeeh ce la fai ora salgo da venti mi butto salgo da scendete no è una shift si però ecco mi fai venire anche qui lo tattica ci vuole ma io mi muto perchè ah che di rompere il grado e già ti sente hai 40 secondi delle partite prendi la vp la la vp non ci è fatta la vp vincenzo greco vincenzo greco si si è fatto poi quelli tattia perchè sennò quel cazzo ma se sono vincenzo sputa dammi la vp proviamo a piccare outside proviamo a piccare outside outside in pratica ero a 2 kill adesso sono primo no vabbè andiamo perchè stai scherzo in chat pubblica qualcuno copra dietro si ne copri dietro io raga vorrei un commento tecnico di pietrosauro io lo vorrei chi ha votato si io no dark muore oh my god bella sogna quella di piccarlo bella quella smoke là sopra grazie incendiaria è saper tu grazie ancora scusa dark forse è colpa mia sei sbagliato questo colpo ma non c'era tanto sto sparando a casa grazie per l'ingezione addosso folle ma c'eri tu no perchè comunque volevo ma se io tipo facessi un esperimento sentivo un po' di freddo lasciare andarmene puoi entrare ma si migrato stivo io devo coprire dietro però non tutto round ma che cavolo è freddo vabbè uno tossic uno tossic uno tossic dai gt gt fermi ho smockato uno tossic uno outside vendi occhio a sinistra copritemi vabbè uno tossic clac oh a sinistra a sinistra di cosa vendi io te l'ho detto da outside io l'ho detto luca l'ultimo ho porte lui dalla porta di fronte a te si ma forse è arrivata può essere anche condotti shiftato eccolo mamma mia fortuna che c'è sputner che dà lì sputner dovevi dire sulle scale vabbè non lo so che ti vuole dire scusa che ti vuole dire pure scordi 8 volte ti ho detto vengono sputner devi dire le coordinate esatto ho capito andiamo out allora tu quando vedi che però abbiamo pushato non stare per amore pushagli anche tu va bene si ancora si ancora era lo spot andiamo out si sa mai che ti capita una chilla casa un'assente 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 copro io dietro Sini tu odi già stanno scendendo giù quindi noi cosa facciamo andiamo in bravo andiamo giù andiamo giù chiasi nelle tattiche tu vabbè sono tutti qua 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 le info di l'acqua sono tutti qua scusa perché non pensavo ce lo fate tanto oddio mi ha coltellato che lato uno è oh sinica avrai 10 hp girate di spalle è troppo forte tacca la prossima volta puoi non dire qua dentro non morì l'ultima out bella non c'entrava nulla il bovari tu ha ammazzato uno col coltello almeno questo ce l'ha uno col coltello afk hittato ma chi si ha fatto una kill abbiamo vinto la partita posso quittare adesso anche se facciamo 6 round siamo messi bene dammi la bomba la bomba vendi dammi la bomba di novo out madonna ma lo devo sparare che che no vendi tu stai tranquillo sini è buono no io già oggi sto incazzato no questo è che mi disturbate no dai ragazzi morto darkfall vedi il bollacca ah beh morto darkfall e se ne fa un altro e quel dall'altro non è sini dai wallah ti lasciano come le merde ah si però dovete scendere giù non è inutile l'acca da solo dai vienici papapapapapa papapapa e la canzone di vincenzo greco è un coglione vado dietro vendi follow vendi due temporeggia vendi dietro oh ciao ah beh tranquillo 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 e lasciano tutte rampe però dovete entrare subito sini vediamo se sono le armi dai tieni sini non lasciamo cioè faccio un po di tassi sono le armi continuiamo un po di roba in rampe ma massimo che frega per arrivare in rampe io copro dietro puoi scendere non l'acqua di uscire con noi no è sì sì ma io copro dietro poi ma che cosa prestare ad alternativi ma quale avuti che l'emmissata di tutti prima lo scopo del cane sport ora che si non ha capito un cazzo un coglione vabbè raga però è stato più a me ma chi è stato di meno uno uno è sotto cittadini da vendi oh figlio di dove è sopra ma sono due lac cioè vendi vendi vabbè plant non puoi plantarla fatti sto clutch è impossibile da clutch non si entra questi ragazzi c'è no perché altro tutti a guardare uno avp avete soldi no proprio in a non possiamo entrarci diretti al massimo smocchiamo tutto out ed entriamo in a 7 3 non siamo messi io raga direi un push in grade diretto da si così ci fanno il culo moco è tutto ma si è un coglione si è un coglione indovinate chi è che l'ha tirato detto auto ragazzi io dico che è un'unità a fare la con quel ragazzi out andate out avupi avete smuccato garage? no vabbè non ci credo luck però devi seguirci mi ha portato a porto e mi ha fatto instant io sono aspettando la out e poi in a mamma mia cioè non è africano eh si ne si è fatto a coltellare eh eh non potremmo fare il figlio di troia non muore vendi rimani qui che ora risalgono veramente uno sta dietro di luce silenzio l'ho sentito lo cazzo due sono vendi due tre erano tutti gli hanno allora aspetta aspetta dobbiamo vincere due round io ho capito ma io non mi capacito come voi facciate a morire così in fretta è a coltellare allora facciamo uno stay tutti i logic tanto loro push e noi li ammazziamo uno però devi controllare auto però si ne io ma che cos'è il logic? mi con si cliccate si tutti veloce no ne eh no doveva pure essere espulso sonato eh da voi si guarda che c'è una merda fumicata lo vedete tutto questo è il logic si bravo sei lì fermo si diuto ha pushato meno 88 col p90 a destra e ci lasciano tutti è giusto io ci ho lasciato Sini però da dietro non capisco più nessuno ho registrato quello che hai fatto Sini questo la metti come intro come intro dai quello è ferito quello lobby mettiamo la partita col senza mani entrate da porta e andate tutti in a tanto sono morti guarda come fare bomba drop come rimanere a sinistra c'è uno spunto guarda dove è salito sto mongoloide 93 gli ho fatto ventrum che significa ventrum aspetta è sopra ti dai incendiaria venti incendiaria io scendi in b ragazzi ho fatto i due bravo bravo venti se ce la fai scendi anche tu attento le spalle mi sento un colpo dio 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 venti perdete tempo venti mettiti in tossic e tira un incendiario i primi rampe per un cazzo rampe no non cosa dove stai facendo silenzio dark non parlo la ultima parola di venti alla vp quindi forse salva tanto non può farmi il ninja dei fiusi che boom si vabbè prende scorreggio e muore qualcuno da un buco è partita a sfondare chi ha tirato la granata lui lui vendeci muore da rampe eh luca io me lo faccio puciao mamma l'ho andato dietro la cassa dritto a te no forse è dietro ma no mamma mia ha sbottato il wall luck o cosa dark io ho il wall luck folle non è che c'erano tanti uossi o andava là o moriva esatto 30 hp proviamo out come dice luca il brand luck passa non ho soldi non ho soldi bravo bravo vende mi stai criticando odio per quest'uomo è giusto ru a bomba a bomba a bomba ragazzi vende vende ma è sempre vende e tu la vuoi tu mi sembra basta sin basta sennò mi diventa pazzo dai che già è e fa un cuore però meno 438 sin non ci devi provare fermi ragazzi era fermo e l'ha missato vieni vieni sin cazzo fai salta dietro sin vieni sin non è più l'embo grazie basta non ha senso perdere ancora vabbè tu che ci vai dietro ma ci vai dietro io l'ho detto da dietro luca da dietro luca c'è sputner prendi la bomba e vai via poi c'è una domanda vabbè meno 9 vabbè però push un altro round un altro round zitti l'hack non ha senso che tu vedi i trassini però che gli fai fare le caolate potete andare e rissimilare ecco no dobbiamo comprare no facciamo l'ultimo round round ego al prossimo compriamo ho preso l'ultimo vendi i drop sin droppami a me la k entriamo a rampe che cacchio sin dammi tu non sai giocare dammi la k andiamo in rampe sini dammi la bomba tu entri prima come capi non abbiamo bombolette non entreremo mai in rampe dark entra sini con la bomboletta vieni entra vai la smoke che è proprio utilissima per entrare in rampe negev negev qualcuno prenda quel negev io io mi faccio tutti uno da dietro nessuno lo sente oh ma guarda che due sono i riflessi di un venditore di polli che riflessi è il venditore di polli un vendicatore di polli ragazzi dobbiamo fare ego sto round dobbiamo comprare ora che è l'ultimo io direi raga un push in A si in A la cosa dove muori sicuro luck questo lo dobbiamo vincere calcola sola eh facciamo un bello state tanto rush si rush si rush vuoi state illogico o proud ma sai cosa bisognerebbe fare qualcuno che va outside e pusha un attimino che li fa rushare pushy outside pushy outside non dico non dico vai a morire outside si si guarda tranquillo che non ci muore guardate come ci muore luck eh mi stanno pushando eh falli push qualcuno copre rampe torno in via quello è il problema torno torno bello che ve l'ho detto grandi si in doppia raga foto 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 doppia lasciamo lasciamo ah si fai troppo bordello scendete rampe scendete rampe cioè grada veloci ci sono già mi devi coprire però Luca aspetta che forse c'è uno tossic hanno rotto nasconditi in tossic guarda che c'è uno tossic che ne sai scusa raga sentite se defiusano no no lo tiro te lo smoke uno rampe di destra ok 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 dice 5 dobbiamo vincere questo non posso troppo pro si alla cookie ma ascoltate penso che sanno tutte le smoke ci fanno il culo ma io il culo non me lo fanno alcune oh lei mi ha uspesse anzi come ci dividiamo come ci dividiamo io ho le rampe oh io la mia uspe tieni rampe lacche tieni rampe io e vendiamo se vedete che arrivano e non ce la fate perché non me la sentite o vi viene un colpo al cuore non piccate non moriteci quanto deve morire con la linea brano ah beh c'è spunto oddio sini viene oddio mio la cuore spunto sei emozionato vero devo fare il doppio del lavoro adesso ci si sono due rampe rampe uno uno solo no vabbè raga mi ha fatto instant vabbè dove? casetta uno ok quello è bene vendi tutti i porte tutti i porte tutti i squeal vengono 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 bella l'abbiamo mangiato quando signi ha busciato ho detto ecco è la finché tu vuole latte cluber qua io no ragazzi c'è un piccolo problem io non so chi è eh fai cambio con spunto perfetto però basta non ti lamenti che i signi no no io lo amassino compra cazzo di signi no la vecna io voglio le mie quattro non compro quelle che ho la tela ma se c'è 4 migliettore 3 1 out 2 out Tutti out Un è già sceso Cazzo Ultima è dietro il container Bella La che questi non sanno attaccare senza armi Per ora Silenzio che non c'hanno le armi Detto per ora M4 M4 Per un paio di round ne riparliamo Eh io comprerò due sniper front No No luck Io comprerò Non è una situazione di emergenza Ti voglio vedere con quell'arma in mano Solo Sino la cosa No neanche i Sini Nuovo mag 7 Bulldozer Nuovo 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 No Star Trek No Troppo costo Quanto costo hai il tuo costo? Tu lo compro da 2 euro Io li devo andare in a Non è di me Eh niente Nessuno Ok veramente Rampe Mi sa rampe Rampe Dio cosa ho fatto? La case La case No luck Me ne sono fatti 3 Oddio ma c'è il singh da solo No c'è folle Oh Allora Aveva 2 HP quello che ammazza tu sia Si è migrato 6 shot wall Ma l'hai visto? Me l'ha fatto? Si ne folle rampe Con sicurezza Correndo C'ero io ma ne sono fatti 3 Io sono out Sputala La sono in una sicurezza Raga OP M4 OP Che ha fatto 1? 1 con 10 HP Però 7 kill sta facendo Cioè Oh 7 kill Va bene ma non è che sta giocando malissimo Vedi? Va giocando senza rank Oltre sput Io Ma se ne c'è Saffa inglese No Entro fine partita Devi aver superato l'ultimo dei loro Eh una tra la team Ehi dai Madonna muro di merda No no vabbè Entro al fine delle kill Devi fare 13 kill Vai Out 3 out Random Ho fatto anche la VP Ho un altro Boost 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 Sopra 1 out a VP ragazzi State safe Oddio luck Oddio mi luck Sini Torna rampe 2 out 2 out Stanno scendendo 2 out Vendi falli passare Vendi falli passare Che c'è Sini sotto E mo non possono più Luck c'è lì dietro Più luck Uno sopra la casa forse No Vendi non vendi Hanno indietreggiato Sono tornati indietro raga Occhio lobby Vendi vai a Fai safe qua Ok Ah raga Tonino In lobby Sì lobby Flash Si vendi Uno finestra No zitto Atenti Non state tutti qui Eh porta 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 Sinistra Vendi È lì Bella Prendi la popp Avevano comprato Strong Giusto Io apro la porta Quindi sono in ecco adesso Forse Vendi ti do Ti compro io no Ce l'hai soldi Ma madonna La voglio di autosniper Ragazzi però li ho reactati io Cioè con lo scatto Mi sono fatto due AWP Sì raga ma la voglio di autosniper E' troppo Tutto culo Tutto culo e niente arrosto Autocomplano scriverò sull'N4 ASA ASA Inchio Poi a fine partita voglio sentire il commento tecnico di Viano Eh ti ho sentito a Dark A fine partita devi commentare La partita Nessuno ha auto Ah 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 uno in blu No è tornato indietro Scherzato Eh vabbè sì mi lavo un HP Silenzio Aspetta flash Un è out con lo scout Eh ma sono tutti in logic Folle per favore Non posso venire Un è out Vieni ti posso lasciare solo C'è una persona molto in difficoltà Che non copre outside come si deve Perché un è sovrattento Eh ma tu non devi pusharli così Adesso lo fai capito Eh peccato che se rientrava io Outside Non c'è nessun out Un altro out Un altro out Dark Oh my god Casetta casetta Vendi Bodo Sini Sini la doppia Eh secret secret Dark secret Cos'è secret Non lo so Se non ho sentito doppia sotto Oh dati Silenzio Dov'è Silenzio È garage Sini vai Sini vai Garage o qua a destra Dark Garage Dark dove ti metti tu Col cecchino Grande Oh male che c'è Sini Che c'è Sini Che c'è Sini Che c'è Sini Ragazzi Vabbè Sini 8 kill Ragazzi Sini Tranquillo Vendi Grazie Vendi Grazie Vendi si scherza Però si sveglia Cioè non mi posso fare le quadre Sini Non mi direi che devi andare Che ti banno È la prima che fai Adesso devi dire Eh non faccio la quadra Guardate Guardate No 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 Ma che andi No scarate Gli serve tutta la vita Per farsene mezzo Piazzo di merda No ragazzi Abbiamo perso troppo tempo Il restaurant lo perdiamo È sufficiente Devi andare inà Non andare inà Si dark Come guva Rampi Come rampi C'è di cattiveria Rampi o no Lack Attenti in casa Vabbè siamo in tre Sputta vai a subito Dai eh Please Ci siamo fatti tre In mezzo alla smoke Va bene Va bene Lack L'importante è farsi Cazzo Sessanta Una inà La bomba inà La bomba inà Titti Mamma mia dark Grazie Prego Ma devi dire Grazie a Vendi In realtà Ah perché se l'hai fatto Mezzo lui Eccolo dark Meglio di che Annie S Vabbè l'acca Abbiamo iniziato da poco Rispetto a Kenny Che ci giocava sei anni Vabbè Pian piano Qui c'è il pro Sini che dice pro Non si possono sentire insieme Ti senti con te Puttana te che spara Sini Se fai Madonna Ora non gli sparate Non gli sparate Se fai 13 kill Entro la fine della partita Ti dico bravo No non fate Stare scommesso del cazzo A me non piace 13 kill Silenzio Mi serve concentrazione In out Niente rampe Niente rampe Niente rampe Occhio dark Raga hanno smuccato B Cioè Uno out Sput veloce Ho smuccato io No Sono out La cassa 3 out Oh dark Verso Arion C'è lo scout che ti mira là È safe Sput che ruba kill Sì 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 Importante è farsi Oh ma uno è sceso Tranquilli che c'è il Sini Che se li fa tutti Eh Fatto un sputto Grande L'ultima dietro il contene rosso Grande Sini Grande Sini Grande Sini E che è non spray Edshot Edshot Alle spalle Ci sta Però 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 C'è fermato Però ha spriato male Vabbè io volevo andare di coltello Però poi sarete Avrete 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 segnato Quindi Ho preso l'auto Prespaio Vabbè C'è sempre una prima volta No 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 C'è sempre una prima volta È buono Amici degli spettatori Dovete odiare sempre Il Kratos Volevo flashare Però ho paura di sputere Che ce l'ho dita Eh fai bene Perché ti sei capace Di spararti in testa Di spunti In culo In parte un click Fatto male Eh C'è blue Lobby No Uno rampa Se mi aprite la porta Posso sparare Dall'altro lato però Dovete aprirmi La porta verso dentro Sini se ne ha fatto uno Raga Avete visto Uno rampe Due rampe Passano rampe Voleva non passare Dai Sini Spara Bomba Bella Bomba lobby L'ultima è logic Ah sì Sì qua non sanno attaccare Eh Però non sanno attaccare Mi fate veloce Oh raga 10 kg Dai Una te 3 kg ha detto luck Luck qua c'è scritto Che ti ha appena salvato E non mi ha ringraziato Ma vabbè Mi ha salvato Non cosa volevo vendere Comprate tutti i kit Anche tu vendi Merda di merda Poi si vende Si vende ragazzi Pietro in sottofondo Dove è Pietro? Dove è Pietro? Pietro senti che sputano Il tuo volo bene Eccola Eccola Sini Sini dove cazzo sei? Sì Lo trorei male Mi ha salvato Non ti rischio mai Anzi silenzio Poi ci rettano Forse ha eh Eccolo Scusa Due long Cioè due auto Scendo sotto Scendo sotto Tre auto vanno tutti sotto Unina 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 Meno 50 Perso strong Dove? Sotto sono Sotto sono scesi E una è in lobby Ok Sini l'hai visto? Sì sopra E sta scappando Sì l'hai detto Vendi vai giù Sono tutti in B Ok Hai visto? That spray down Hai visto sotto? Sì ho visto Vai da qui No Vai da qui Si vedeva però Silenzio silenzio Sì inizio Sì inizio sotto Veloce Che c'è l'hack da solo Shifta Guardi a shifta Si sentiva Lhack stanno plantando Come si sentiva? Sì che si sentiva In B? Sì Eh non so Se ne sono entrò in tossica Hai fatto il ninja Lo so Perché gliel'hai detto? Guarda folletto Come ci prova Eh però Sta facendo scappare alcuni Quindi Però sai cosa? Dovevi dirlo dopo Titti Axmo che mano Presto ancora Aia Nooo Eh cazzo Se abbiamo provato 13-11 ragazzi Ancora non è Raga autosnapper Sì o no? No 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 luck No Che se lo perdiamo Ho perso la partita Dai Abbiamo svegliato Commento da un fan Dadger Vi stimo tutti Sospettando Per caso Dark registra Io direi di sì Sempre se la vinciamo Diggi di no Diggi di no Tatti vero Io vorrei flasciare No sì né Io vorrei flasciare Vorrei Sì 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 Micratos di merda Unque i no fanno una cosa che non mi piace mica Perché adesso Bomb out Scendo sotto di corsa raga Un è arrivato già sotto con la bomba Bomba già sotto Bene bene Ah è Avvio Di dietro il container Bomba troppo Luck Lugga Oh Un'era solo a casa Zinti per fuori Dov'è la bomba luck? Sini contro la raga Sotto Verso il secret Dai sei dietro al muro Sini Qua No Quello più avanti Questa? Sì Grande sputner Un altro luck Arrivano da Condotti Non ti fare vedere Cazzo Ho bisogno Sini che mi spari il culo per fuori Ti sta parlando il culo Sini Una arriva da fuori Una arriva da fuori Bella Nice Quello in mezzo allo smoke Me lo ritmarco L'ultimo zai L'altro da fuori L'altro da fuori Sini Quindi forse ha Sini devi guardare dietro Lai sicuro Luck no 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 La push out Non ho 90 No Da forte Sini No non ho ritardo Sini Fermo fermo Sei safe Deve plantare Sini Hai visto? È site Sotto Andassi a destra Aspetta È se minchia Oddio Sini Oddio È piaciuto l'urlo di Vandy La metto nella intro Sini ma One tap C'è un colpo Oddio Mi ha fatto bestemmia Autosnape Sì o no? Ho iniziato a sparare col P90 Ho detto Cazzo è morto Sì anche io Invece no Se perdevo il giugno La scolacciavo Ma che cosa Oh Sini La prossima flash No se l'è meritato Questa scuola Se l'è meritato Se l'è meritato Se l'è meritato Cosa l'è meritato Il clutch Una fa Ma clutch E manci Meritato il clutch Iuto Oh cavolo raga Io cazzo Sini 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 Lettati tutti Trampi due Nei trai un bel po' Ho il coda Uno Cretato Un ciclato Un ciclato Dark Non pusciare Ho problemi Vincia folli Quando le liscia Uno Dietro mi hanno pusciato Ma da che Eh sono Pasta di ara Sono suonito in paradise Sono in A Cazzo Venti con i robbi Vada Nei scorri No 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 Vai salì Hanno smoccato Vai 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 Spurcciando solo Profittane Sput Vendi cambialato Vai zitto No se l'ho poi ti metti troppa pressione Uno è in lobby Perfetto Venti Io provei il ninja Uno è sopra Ti metti Metti quel po' Il ninja Non l'hanno plantato ancora Zitti Arriva la bomba Sopra sotto non è possibile Provei il ninja No Sono T'ho impanicato troppo Quattordici Sì ne ha WP Che che mi droppa Io sto avendo problemi l'hautos Mi stanno scettando troppo Troppo io scusa No Lack No io lascio Sini solo a questo round No Lack devi stare lì No Se passano rompe vado a parare la c***a Dark da dietro Eh Lack una kill Vai Sini Tu Dark stai tranquillo outside Eh ma non posso stare tranquillo perché quello è bravo Beh si fa nessuno non ti preoccupi Vendy ti sa per superare Sini Vendy ti sa per superare Sini Vendy ti sa per superare Sini Cazzo me ne fregami Eh Vedi fanno sempre la stessa cosa adesso Fatta la WP Nice Dark Eh però è che devo cambiare ogni round posto Oddio Vendy Oddio Vendy Qua vicino a B Rampare Lack ma l'hai lasciato da solo Che c***o fai Lack però cavolo Ma se n'è morto pure io penso Lack ma non ha senso però così Buono in fondo con la WP Uno in fondo con la WP Entra Vendy Db Db alla bomba Che c***o C***o Meno 50 sta plantando Deve farlo plantare Lack Uno in rampe a WP Tutti di te vendi forse Rampa a WP ha plantato per rampe sto stronzo Vedi pur sciaglio è perso Sono tutti due rampe mi sa A pos Credo eh Non lo so Non sono sicuro A sinistra Aspetta Sput No è Lack solo A vista ti sta mirando Va bene va bene Lack Va bene tu Nice Dai fiusa Va bene c'è tempo C'è tempo non ti preoccupare Si raga ma io preso Do it market di mag 7 E' tutto bellissimo E' tutto bellissimo Va bene così Do it market di mag 7 raga Lack l'importante è killare Dai c***o Dai c***o Si però Si io ci volevo Do it market di mag 7 Per favore facciamolo bene Voglio che sia l'ultimo Lack Si voglio che sia l'ultimo Vendy Abbiamo un problema Lack passa No me la dò Lack Tu compra però Vendy Dai Ah è una diversione Tutti a girarsi Silenzio Silenzio Sieni a base Sieni metti all'angolo A base Ti ne arrivano Ti ne arrivano Come in A In A hanno pushato Ah ah sta plantando Planta in A eh Sputto tu dovevi? Ma che pentina che la bomba è in squeaky Appunto Per farvi fare Non va squeaky Hanno lasciato due da outside La bomba è squeaky Come direi Si me ne vado a fanculo infatti Non ci muoio Luca Che minchia te hai fatto Raga siete tutti e due lì però Sputto a sinistra Sputto a sinistra Capito Come l'ha chiamato? Dietro di tela Basta Ma monna che culo Ti era visto L'hai visto? Eh da sinistro Sinistro l'ultimo No luck Buttalo No tieni più 90 Luck per favore Perché devi fare il coin Tattica di luck fall Si però non sai dove devi sparare La bomba non è più lì Sto fanno la bomba 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 Blu E' in blu E' in blu E' in blu Non lo so E' in blu E' in blu Prendi il pinoma Vado con me L'ho visto? Finocchio ti ho visto a te? No dai perdi No Finocchio t'ho visto La più prefire dovevi entrare Oh che minchia Dobbiamo fare eco sto round E devo vincere sul set No fermi No fermo Eco rush out Rush outside No dammi la più di 50 Ragazzi però luck 20 Cosa c'è la E vabbè là che là che là Quindi sono fatto la nonu Per la là che là Guarda la easy Oh l'ho lisciato Che cavolo vuoi? Sto facendo 30 kill Mi sono fatto la triple Ragazzi Eppure l'ultimo tranquillo Non ti dico male Io so Go 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 push 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 Dai che ce l'ho Bomba Coprite tutto Ti copro dall'altra parte Da dietro Raga da dietro Ma che pippe che siete Mamma mia Coprite tutto Coprite tutto E fate In pratica C'era uno sul bus E si è buttato su di noi Raga voglio Siamo fattuti La vittoria Prendo il P90 Cazzo Poi si è mag 7 Venti prendi qualcosa A esso usar Granate Comprate tutto Sini qua mi devi fare l'ace Sini Non la tripla L'ace Devi divare a 13 Ed è il tuo ultimo round Non voglio metterti pressione Ma se non lo fai Ti bagniamo Prego Dove sei fa Eh no Ha out hittato Fatto Eh si Qualcuno ha playtato No Da dove sei uscito Pazzini Silenzio Un altro out Io raga sono in secret Falle 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 No Dark Raga Gitti Gitti Outside Destro Non pushate così Lobby No non è vero Era Sini che correva Non c'è Gli hai pushato di troppo Sì ma me lo faceva Era sul boost Sini esce E prova a fartelo O no Sini shifta Vai Era su Sini sopra Sini Sopra Sopra Ok Silenzio Oddio Shift e scendi Shift Non buttarti Non è il kit Sopra c'era Vabbò Sento a destra Quello si è sempre lì Vabbò Abbiamo provato Vediamo che rank erano Oddio si poteva vincere Questa si poteva vincere Ah beh non erano queste cappe Erano nuova Avevamo signi che abbassavi il rank Infatti Oddio la cappa con Ghirlanda E fa 17 kill Scars Vabbò In Italia Contro Polonia Pari Grazie mille